Massimiliano Mannino, allenatore della Lazio Calcio 5 Allora, come ha visto la squadra in questa prima uscita precampionato? Allora, beh, per noi già c'era stata un'altra occasione con la Lokomotiv dopo pochi giorni di ritiro era quello che mi aspettavo, insomma, una partita vera i ragazzi hanno interpretato la gara con le giuste motivazioni anche perché di fronte, faccio complimenti agli avversari avevamo una squadra comunque pronta per fare il loro campionato e non me l'aspettavo, insomma, rinnovo i complimenti agli avversari credo che giocando così faranno sicuramente un grande campionato per quanto riguarda noi, ovviamente sono tappe che dobbiamo superare e quindi per oggi sono più che soddisfatto Nonostante il largo risultato, quindi l'Isernia è stata per voi un duro avversario? Sì, non ci dobbiamo in ritiro soprattutto le partite pre-campionato ogni anno è così, non ci dobbiamo mai far influenzare dalla categoria perché gli avversari che vai a incontrare ovviamente mettono sempre qualcosa in più perché sanno di giocare contro una squadra di Serie A poi noi quest'anno comunque, in partito dal moto abbiamo fortito molto la squadra di molti giovani e quindi per loro è stato un ottimo test Che campionato si aspetta? Questo qua ovviamente è difficile da dire al momento perché dobbiamo innanzitutto affrontare ancora altre squadre soprattutto di categoria come la nostra da là prenderemo spunto quindi noi cercheremo di fare come l'anno scorso partivamo non con i favori del pronostico e quindi ricordo benissimo tanti addetti ai lavori che parlavano comunque di una Lazio non pronta invece poi al giro dell'andata eravamo primi in classifica sicuramente quest'anno non potrà essere la stessa cosa visto la rosa però sicuramente daremo il massimo su ogni campo è stato un po' di più